Grande debutto ieri nelle sale cinematografiche per Cenere, opera prima firmata dal giovane regista siciliano Simone Petralia, premiato durante l'ultima edizione del Social World Film Festival 2014 dal direttore Giuseppe Alessio Nuzzo per la migliore sceneggiatura con il cortometraggio Emmanuel. Compare anche Roberta Scardola, attrice di Cesaroni, nonché reduce da una turnete a trele di successo con la commedia Questa volta te lo dico io, particolarmente amante della Valle Peligna. L'abbiamo vista il 2 agosto scorso nell'ultima edizione di Romantica. È stata anche a Sulmona e ha collaborato con la nostra emittente nella diretta della Madonna che scappa in piazza dell'anno 2012. Nel 2011 ha partecipato alla giostra cavalleresca di Sulmona, amante anche di Pratola Peligna e devota alla Madonna della Libera. Cenere è un dramma romantico, un film indipendente fatto con poco ma che vuole e riesce a far emozionare toccando argomenti non per forza leggeri ma molto attuali, entrando nel mondo della prostituzione, dello spaccio, dei figli di papà e della gente di strada. Un bel ritratto di una società che troppo spesso facciamo finta di non vedere. Protagonisti Erika e Julienne. Erika è una prostituta, 21enne, disordinata e spaventata. Julienne è un'artista di strada, 23 anni, ribelle, spensierato. I loro destini si incrociano a Roma, nel cuore della notte, per caso, in maniera del tutto inaspettata. Da quel giorno le loro vite saranno destinate a cambiare per sempre. Assieme alla Scardola anche Andrea Roncato, della fiction Carabinieri, l'elenatore nel pallone. Una produzione Giuseppe Lepore. che ha creduto e crede in questo talento nascente del cinema. Con la Scardola hanno collaborato nei film anche due pratolani, Roberto Ruggero, su menaggiamente, e Silvio Formichetti, con le sue opere.